Quindi vuole che io recuperi l'Ambra, un oggetto che sembra pericoloso. Mi domando in che modo abbia intenzione di usarla e chi ne pagherà le conseguenze. Perché c'è sempre qualcuno che deve pagarle. Ma è meglio non saperne nulla. Io l'avevo capito e l'avevo accettato. Finché quella notte a Raconsidi ha cambiato tutto. Mi sto dirigendo al punto d'incontro con Luis. C'è sempre più fermento tra l'ossi Luminados. Non ti distrarre. Ricevuto. Passo e chiudo. Ricevuto. Passo e chiudere. Giornata complicata. Wesker, a cosa devo il piacere? Non farmi perdere tempo, Ada. Trova Luis. Recuperami l'Ambra. Grazie per questa stanza. Resta qui. Mi dà una mano? Non sono il tuo babysitter. Tu dovresti essere una risorsa e non certo un peso. Non tollererò oltre la tua incompetenza. Basta minacce, Wesker. Fa quello che devi. Mi farò sentire. Allora, che fine ha fatto l'Ambra? Mi spiace, ancora nulla. Ma il mio piccolo aiutante sta facendo proprio un bel trambusto. Andrà tutto alla perfezione. Basta che tu tenga il tuo cagnolino sotto controllo. È un bravo cane. Prevedibile. Bene. Tieni il cagnaccio. Ma non venire a piangere da me se ti morde. Leon, hai cambiato idea? Ah, dai. Immagino di no e... ho un'informazione. Qualcosa di grosso accadrà nella Sala del Trono. Dura fare la balia, eh? Non ancora. E adesso chi è il suo obiettivo? Io o Sadler? Dipende tutto da te. Il piano è cambiato. Certo, sei libera di rifiutare. La pistola non mi spaventa. Interessante. Ok. Ci sto. Ma la tariffa aumenta. Una scelta saggia. Ti mando le nuove coordinate. E ricordati, non mi piace per nulla. Aspettare, lo so. Non mi piace per nulla. Sono arrivata. Ho collegato il dispositivo. Farà esplodere l'intera isola? Inclusa la figlia del presidente? Non renderà le cose più difficili? Non c'è spazio per le mezze misure. I deboli devono sacrificarsi per i forti. Ora basta. Recupera l'Ambra. Ho preparato un mezzo per farti tornare sull'isola. Ricevuto. Sto andando. Ok, Luis. Che cos'è che avevi detto? Penso che tu lo sappia, Wesker. Non sempre seguo i tuoi ordini. Non mi piace. Sì, sì. C'è sempre una via. Fermo! No! Figlio mio, non fare resistenza. So dove sei, Sattler. Adesso si va a cercare Leon e Sattler. Fisca a noi! Oh, che lui sia benedetto dalla vostra misericordia! Esultiamo tutti! E così sia! Leon! Vai! E! Oh! 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 Centrale mi riceve? Consegna il sicuro. Non sarà semplice spiegarlo alla Dugana? Ottimo lavoro, Ada. Evacuazione immediata. Ricevuto. Stanno venendo a prelevarti. Immagino che te la stia cavando anche tu, Leah. Ada! Tadler! Stupido eretico! Tu hai rinnegato il sacro corpo male, il grande dono di diventare tutt'uno con noi. Ti servirà la soluzione! Tadler! 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 Sì, sì. E' ora di andare. Vieni. Sappiamo entrambi che qui le nostre strade si separano. Sapisco. Meglio se ti sbrighi. Carino. Alla prossima, Leon. Leon! Leon! Passamelo. Ho recuperato l'Ambra. Eccellente. Solo una domanda. Che cosa hai intenzione di farci? Io non ti pago. Per fare domande, Ada. Ti basti solo sapere che sta arrivando una nuova Alba. In cento daranno la vita affinché una persona sopravviva. Io sto solo accelerando questo fenomeno. Quindi parliamo di milioni di vittime? Miliardi. Ambizioso. Cambiamo rotta, subito. Il pilota non risponde! Signore, per qualche motivo l'esplosione simultanea è fallita. La potenza distruttiva rilevata è al di sotto del 50% delle stime. Gran parte dell'isola è rimasta intatta. Oh, Ada. Cosa devo fare con te? L'elicottero è ancora a portata di tiro. Apriamo il fuoco. No. Questa piccola ribellione non cambia nulla. Comunque... Abbiamo quello che ci serve. Continuiamo. Come previsto. Presto il sole tramonterà su questa nostra era. Miri. Cosa è. ... Vi stiletto... Runete... Grazie a tutti.